Credo che per tanti motivi abbiamo il dovere assoluto di tentare tutto il possibile per andarci a riprendere qualcosa che da due anni, pur arrivando secondi e quindi dovendo andare in teoria di diritto di nano, riusciamo ad avere per un gol in più ricevuto. E' chiaro che ci dobbiamo rialzare e ci stiamo rialzando da una botta epocale e credo che se alla fine, come penso, questi ragazzi daranno la grandissima dimostrazione che mi aspetto nel riuscire ad ottenere quello che tutto vogliamo, dimostreranno ancora di più di essere delle persone meravigliose prima che dei calciatori importanti perché non è semplice per nessuno rialzarsi da una caduta del genere e ricominciare subito la salita. L'approccio deve essere quello di cercare di dimenticare l'emozione negativa ma ricordarsi tutto perché ti deve far scattare dentro una rabbia, quella rabbia positiva da tramutare in campo per poter poi riuscire a portare la squadra a raggiungere l'obiettivo. Grazie. 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 Grazie.